Musica Società agricola Torresan, dai nostri animali nati e allevati nel cuore del Montello produciamo solo carni e salumi genuini. Nuova apertura a Ponzano Veneto. Benvenuti al meteo, pressione in lento aumento, al nord est dunque migliora il tempo. Con l'aiuto della nostra grafica andiamo a vedere la situazione di martedì 6 ottobre. Sul Veneto nella prima metà di giornata c'è lo sereno poco nuvoloso, locali nebbie sulla pianura e nelle valli prealpine. Tra il pomeriggio e la sera nuvolosità in aumento ma sarà bassa la probabilità di piogge se non per isolati piovaschi sui rilievi. Temperature stazionarie minime fino a 11 gradi, valori massimi invece tra i 16 e i 21 gradi all'incirca. Ci spostiamo ora sul Friuli, Venezia, Giulia dove inizialmente avremo un ampio soleggiamento, poi qualche addensamento e non si escludono nemmeno dei rovesci. Temperature minime tra 11 e 14 gradi, massime invece sui 18-20 gradi. Infine uno sguardo al Trentino Alto Adige, bel tempo con sole prevalente, più nuvi col passare delle ore ma in genere senza conseguenze degne di nota. Temperature minime sugli 8 gradi, massime invece sui 17-18 all'incirca. Dal Meteo di Antenna 3 per ora è tutto, grazie per l'attenzione e arrivederci al prossimo aggiornamento. Società agricola Torresan, dai nostri animali nati e allevati nel cuore del Montello, produciamo solo carni e salumi genuini. Nuova apertura a Ponzano Veneto.